...dicoperto, e quanti giorni sono con la bicicletta per vedere se ti fa colore? Quando non si chiude il testo? Passata. Ah, così. Ed ecco come andrebbe in giro, o tutto bardato, proprio come un ninja, oppure con un asciugamano, con sopra un cappello, con sopra delle cuffie giganti, per cercare di non farsi vedere. Lo facevamo quasi tutte le domeniche, la tavolata fuori d'estate. No, 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 lo facevamo tutto. Perché appena mi mettevamo fuori la tavolata, lì iniziava a girare, iniziava a spiarci, sbatteva i capelli. Ma non fa così solo durante i bar dei più domenicali. Lui non può mettere il piede a casa mia, se non è invitato. E lui lo sa, e lo fa a costa. Gira e brontola, gira e brontola. E dai, e dai, gira e brontola, che alla fine uno non ce la fa più. Ed ecco cosa c'è dietro, bullismo, aggressione, spinto in botte ad un residente proprietario che passeggia nel cortile comune. Non metta il piede qua, Davide, non metta il piede davanti a casa mia, vai via! Vai via da casa mia, Davide! Esci dalla mia profonda. Basta! No, no! Basta, che cosa che vuole! Infatti Davide se ne va e poi torna indietro. Non vuoi capire che ti devi togliere da qua? Forza, via, vai via la casa mia! Via! Basta! E pensa bene di passare dal retro in bullismo, aggredito a spintunicarci sediate minacce nel proprio cortile. Oh no, basta! E forse uno capisce perché si arriva a lanciare sedie. No, basta! Bye! Basta! 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 Sì! Basta! Grazie a tutti.